L'amministrazione si impegna a fare maggiori controlli, ma ognuno deve fare la sua parte. La dirigente del settore NU, Claudia Sacco, risponde nella lunga intervista di TV City alle richieste e alle criticità segnalate dai cittadini sul fronte rifiuti. Dottoressa Claudia Sacco, in questi giorni con le nostre telecamere stiamo raccogliendo molti malumori, polemiche, critiche, ma anche appelli dei cittadini rispetto alla questione rifiuti, rispetto a delle criticità che ancora ci sono del porta a porta, come la mancanza dei bidoni, oppure l'immondizia non prelevata, soprattutto la situazione in cui si presenta la città il lunedì. Facciamo un attimo il punto della situazione. Allora, stiamo vivendo una situazione, diciamo, normalissima, perché abbiamo cambiato il sistema di raccolta. La nostra città era abituata ormai da anni ad avere questi famosi ecopunti, questi punti di raccolta, che non erano dotati di alcuna autorizzazione. Il passaggio al porta a porta è ovvio che abbia dei tempi, delle problematiche che vanno affrontate e risolte. Io oggi sono soddisfatta di quello che abbiamo raggiunto in questi pochissimi mesi, perché noi sappiamo che su tutta la città il sistema di raccolta porta a porta è partito solamente il 16 di marzo. Peraltro in un momento difficilissimo, che è stato quello della pandemia del Covid, che ci ha portato comunque a delle scelte anche diverse da quelle che avevamo progettato inizialmente. Noi abbiamo una doppia raccolta giornaliera, che non hanno tutti i comuni. Questa doppia raccolta cosa comporta? Nel momento in cui l'utenza scende con il doppio sacchetto, che può essere umido e plastica, come umido e carta, oppure vetro e secco, e lo poggia nelle immediate vicinanze del suo civico, il primo utente, il secondo utente, e a un certo punto, quando arriviamo già a dieci utenti, si crea un cumulo. Nel momento in cui vengono miscelate le due frazioni, per legge questo cumulo diventa di indifferenziato. E vorrei che questa cosa fosse chiara alla cittadinanza, che spesso ci segnala, dice, no, ma io vedo umido e plastica. È la frazione del giorno, perché non si raccoglie? Allora, nel momento in cui viene miscelato, la selezione manuale su strada è vietata dalla normativa. Per cui dobbiamo metterci di impegno, e laddove ci sono già i carrellati, utilizzarli in maniera corretta. Laddove non ci sono, ma stiamo chiudendo, nell'arco del prossimo mese sicuramente verrà completato tutto il territorio. Dobbiamo stare attenti a differenziarli sui due lati del civico. L'altro problema che abbiamo continuato ad avere, sia nel periodo della pandemia, ma ancora di più oggi al termine del lockdown, è quello dei cumuli abusivi. Sicuramente rispetto a quando avevamo gli ecopunti, un miglioramento lo abbiamo avuto. E quindi di questo siamo contenti e ringraziamo la cittadinanza. Da 120 punti abusivi che abbiamo mappato negli ultimi anni, siamo scesi a circa 60 punti. Però il risultato non è ancora sufficiente. Proprio rispetto a questo i cittadini chiedevano più controlli e anche più sanzioni. Assolutamente. Anche io ho richiesto all'amministrazione, al sindaco, alla polizia municipale, maggiori controlli. Scenderanno in campo già da questo fine settimana di nuovo le guardie ambientali. Si fa proprio un appello al senso civico della cittadinanza. Anche perché è importante capire che questo anno, per tutta la città di Torre del Lireco, è importantissimo. perché a livello europeo, nazionale e regionale abbiamo l'obbligo di raggiungere il 50% di differenziata. Laddove questo risultato non fosse raggiunto, ci sarebbero sanzioni per l'amministrazione, ma anche per la cittadinanza, perché andranno a pesare sulla tassa. E quindi è importante che questa cosa non accada. Oltre alle mini discariche abusive che si ritrovano un po' sempre negli stessi posti, come alle spalle del centro storico, il lunedì la città è sempre puntualmente sporca, nonostante il sabato c'è divieto di conferimento dei rifiuti. Ecco, il lunedì è una giornata drammatica per quanto riguarda la raccolta, perché il sabato, nonostante ci sia il divieto di conferimento, la cittadinanza, non dico tutta, io sono cittadina di Torre del Greco, anche io, non tutta, ma gran parte della cittadinanza conferisce rifiuti, ovviamente in maniera indifferenziata. La domenica strutturalmente abbiamo una giornata di riposo per questo tipo di attività, perché poi ci sono altri servizi che comunque portiamo avanti. La domenica sera il ritiro è per umido e carta, per cui l'indifferenziato non può essere raccolto, il lunedì andiamo in grandissima difficoltà, perché abbiamo cumuli di indifferenziato un po' ovunque. Come abbiamo documentato con le nostre telecamere, anche molte strade sono sporche. Allora, assolutamente sì, voglio spiegare anche questa cosa. Nel periodo della pandemia, a seguito di linee guida ministeriali dell'Istituto Superiore della Sanità dell'ARPA Lombardia, il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato non umido è stato sospeso in quanto non potevano essere alzate polveri, non solo per la sicurezza del lavoratore, ma anche per la sicurezza del cittadino. Pertanto è ovvio che se per un periodo questo tipo di attività, che è stato comunque compensato da altri servizi, quali quelli di un riassetto giornaliero, tant'è che i cumuli di indifferenziato nel periodo di pandemia c'erano comunque, ma si sono visti meno perché facevamo un riassetto quotidiano a compensazione di questi servizi di spazzamento, ovviamente le strade si sono, diciamo, sporcate in maniera maggiore. La ripresa quindi diventa un attimo più difficile. L'amministrazione si impegna sicuramente a fare maggiori controlli, però dobbiamo, ognuno di noi deve fare la sua parte. E domani la questione rifiuti sarà anche al centro di un consiglio comunale monotematico? Assolutamente sì, c'è stata questa commissione d'inchiesta sui rifiuti, avverrà la presentazione della relazione che è stata prodotta e aspettiamo di conoscere quelli che sono stati i risultati. Io in prima persona non sono stata ascoltata dalla commissione, quindi aspetto di conoscere quelle che sono state le loro lavorazioni. Che tempi lei prevede per vedere una città pulita? Sicuramente vedremo un miglioramento mensile. Ogni mese vedremo sicuramente l'andare a regime. Questo però dipende da tantissime cose, da quello che è il senso civico del cittadino di Torre, da quello che sono i controlli, perché c'è anche gente che non è di Torre che viene a sversare nella nostra città, dall'impegno della ditta nelle lavorazioni, dall'impegno nei nostri controlli rispetto a quello che è la ditta, e anche dalla programmazione degli interventi a farsi e dal saper dare la giusta priorità ai vari interventi a farsi. Quindi è un connubio, è una sinergia tra tutti gli attori del sistema e non si può dare una data. Però l'impegno è massimo, la fiducia è massima nei cittadini, nell'amministrazione e nella ditta che deve portare avanti il lavoro. Tutti insieme ce la possiamo fare. Il comune, di concerto con la ditta, sta lavorando per far fronte alle carenze, ma i tempi per andare a regime sono ancora molto lunghi. Già a partire dal prossimo fine settimana, assicura la Sacco, saranno intensificati i controlli, anche con le guardie ambientali.